Ciao, buongiorno, mi chiamo Valentina Lievi, sono un'attrice, ho 32 anni, vivo a Milano, sono una persona abbastanza logorroica e quindi forse è meglio che leggiate direttamente il mio curriculum così non sto qua fino a domattina a raccontarvi la mia vita. Ho studiato con diversi insegnanti negli anni, ho fatto qualche esperienza davanti alla macchina da presa, di recente una serie web in inglese in cui interpretavo la migliore amica della protagonista. So l'inglese molto bene, lo parlo non a livello madrelingua ma comunque molto bene e vi auguro una buona giornata.